Ok ragazzi, negli ultimi giorni tanto Vladimir Putin quanto Zelensky hanno avuto modo di illustrare i loro rispettivi piani di pace. E quando Vladimir Putin, nonostante tutto quello che ha dovuto subire per mano tua negli ultimi due anni e qualcosa, ti stende una mano per offrirti una pace che suona più o meno come una resa totale, perché infatti dovresti garantirli immediatamente il controllo di quattro oblasts slash regioni, il Donetsk, il Lugansk, il Kherson, la Zaporizia, naturalmente confermare la Crimea, rinunciare a entrare nella NATO, ridurre l'esercito a livelli ridicoli affinché tu sia alla merce di Vladimir se si sveglia con il piede sbagliato, oppure di Lukashenko se c'è qualche briciolina da raccogliere. Poi naturalmente devi anche essere denazificato, e cioè il tuo governo indipendente va sostituito con un governo filo russo che faccia tutto quello che vuole zio Vlad, un pochino come Lukashenko. Ecco. E con una proposta così, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo questo piano è chiaramente agli antipodi rispetto a quello presentato da Zelensky alla conferenza di pace in Svizzera. Ma procediamo con ordine. E' chiaro a tutti che le posizioni russe da una parte, quelle ucraine dall'altra, sono palesemente inconciliabili e che quindi non si raggiungerà certamente un accordo né sulla base della proposta dell'uno né sulla base della proposta dell'altro. Tuttavia, da come vengono trattati questi argomenti, possiamo comunque ottenere dei dati utili per capire in quale direzione sta andando la guerra e verosimilmente come si riuscirà a fermarla in futuro. Iniziamo col porci una domanda ovvia e scontata. Ma l'Ucraina interessa ancora al resto del mondo oppure Zelensky progressivamente starà sempre più isolato e senza supporto? La risposta è che attualmente c'è ancora un discreto interesse per l'Ucraina perché al summit organizzato in Svizzera sono state invitate circa 90-100 nazioni e di queste ben 50 hanno mandato i loro capi di Stato. O meglio, i loro capi di Stato hanno detto Ehi, andiamo a farci un fine settimana lungo in Svizzera, a strafogarci di cioccolato e soprattutto facciamoci vedere vicini agli ucraini perché fa tendenza. Ecco, questo già di per sé è un buon risultato perché significa che l'Ucraina ottiene ancora attenzione. Poi naturalmente è importante verificare anche quali delegazioni erano presenti, quali no e per quali motivi. In particolar modo, quando si invitano 90-100 nazioni non è così strano che almeno una decina ti diano buca. Nel caso specifico, però e purtroppo, ad Artibuca è stata proprio la Cina ovvero una delle poche nazioni che effettivamente guadagnano e tanto dalla situazione attuale. I cinesi non hanno alcuna intenzione di far finire questo conflitto perché è proprio dal conflitto che la classe dirigente ha iniziato a guadagnare qualcosina in più vendendo beni, spesso e volentieri fallati, ai russi. Alcuni si sono poi lamentati per l'inattività del Vaticano perché lo Stato del Vaticano era sì presente a queste conferenze, a questi colloqui fra gli stati presenti ma non ha sottoscritto poi alcun documento. Questo non è avvenuto perché il Papa ha sotto sotto probabilmente filo russo fino al midollo. No, è avvenuto semplicemente perché lo Stato del Vaticano è neutrale e quindi ha preferito restare all'esterno e partecipare come semplice osservatore. Al netto delle battute anche questo comportamento è comprensibile. Meno comprensibile è il fatto che apparentemente il Papa apprezzi i dittatori russi. Ma ripeto, questa è un'altra storia. E infine dobbiamo anche capire per quale motivo la conferenza viene considerata un successo anche se alla fine della fiera mancavano i finanziatori di Vladimir Putin e cioè i cinesi. Ebbene, in questa conferenza di pace Zelensky ha potuto presentare la sua visione, i 10 punti che, se applicati correttamente, potrebbero portare a una risoluzione pacifica del conflitto. E naturalmente Zelensky ha potuto vedere anche la reazione dei singoli Stati. Alcuni, come l'Italia, stanno almeno a parole molto vicini all'Ucraina, altri invece hanno partecipato ma poi, contro i pronostici, si sono rifiutati di firmare. Insomma, per Zelensky e l'Ucraina questo era un test ed è andato relativamente bene. Tra l'altro è chiaro che non si può raggiungere la pace in questo momento. Anche perché, se per assurdo Zelensky decidesse di accettare tutte le condizioni di Putin, o perlomeno di congelare la situazione al momento attuale, Putin si rifiuterebbe. Lo ha dichiarato apertamente. E il suo piano, peraltro, non è neppure un vero e proprio piano di pace. Assomiglia più a una resa senza condizioni che verranno poi discusse in separata sede non appena tutti i tuoi soldati si arrenderanno o si ritireranno dalle quattro regioni che Zio Vlad vuole occupare. Detto tra parentesi, anche il piano di Zelensky è esattamente facile e lineare da seguire. Sostanzialmente lui dice Zio Vlad deve prendere i suoi carri armatini, ficcarseli in tasca, tornare entro i suoi confini del 91 e poi sparire per sempre. Questa è la proposta di Zelensky, ma soprattutto questo è il modo, cioè il summit in Svizzera, con cui cerca di coinvolgere le altre nazioni per verificare quante sono disposte ad appoggiarlo e a seguire questo modus operandi. Viceversa, l'iter di Putin è decisamente meno lineare. In primo luogo non ne ha parlato in una conferenza, ma apparentemente ne ha parlato in modo casuale durante un incontro o un meeting al Ministero degli Esteri. Quindi, ammesso che sia una proposta, è una proposta che lascia il tempo che trova. Oltretutto, Zio Vlad ha chiesto il controllo di ben quattro regioni, la Zaporizia, il Kherson, il Donbass e il Lugansk, regioni che non sono pienamente controllate dall'esercito russo. Zio Vlad insiste nel controllare più territorio di quanto già ne disponga, e non solo. Zio Vlad vuole il controllo anche delle città più popolose, come quella di Kherson, che sono rimaste sotto il controllo ucraino. E non solo, benché la stampa tenda a non parlarne, la realtà è che Zio Vlad non si limita a pretendere il controllo di queste quattro regioni, ma pretende anche che il resto del mondo gli dia sostanzialmente ragione annullando le sanzioni nei suoi confronti. Tra l'altro, benché la cosa sia trascurata, Zio Vlad pretende che l'Ucraina rinunci per sempre a entrare nella Nato e richiama le condizioni precedenti. Ma non le condizioni precedenti di un mese fa, richiama le pretese che aveva avanzato all'inizio di questa guerra, nel 22, chiedendo sostanzialmente che l'intera Europa faccia un passo indietro nella sua difesa. Cosa che è palesemente impossibile. Figuriamoci se noi, di fronte a un tizio che ha trasformato la sua nazione in un carro armato deambulante, ritiriamo le nostre difese. Intendo dire, l'economia russa ormai è un'economia di guerra, col bippo che togliamo i nostri carri armati e lasciamo l'Europa orientale completamente sprotetta. Inoltre, credo che meriti una menzione speciale il concetto di denazificazione secondo Vladimir Putin. Ecco, secondo Vladi, denazificare significa sostituire l'attuale governo di Kiev con uno filo russo. Molto banalmente, Vladimir Putin vuole acquisire, almeno indirettamente, il controllo sul resto dell'Ucraina, annettendo direttamente quattro regioni oltre alla Crimea, che ovviamente controlla già dal 2014 per intero. Per qualche ragione, che probabilmente è semplicemente una coincidenza o il pubblico si è stancato, i media occidentali e perfino i propagandisti filorussi non hanno dato spazio alle solite motivazioni che Putin ha elencato. Non ci siamo persi nulla, perché per l'appunto sono sempre le solite motivazioni. Zio Vlad parla del fatto che la Russia si sta difendendo, è una questione esistenziale, cosa che peraltro ha ripetuto anche Di Battista nel suo video di oggi. È una questione esistenziale, la Russia si sta difendendo dall'imperialismo americano, e curiosamente per difendersi dall'imperialismo occupa la nazione a fianco. Sono quei misteri che puoi accettare solo ed esclusivamente quando corri il rischio di finire otto anni in carcere. Come mai ci sia qualcuno che queste cose se le bevi in Occidente, per me resterà sempre un mistero. Comunque questa era una ragione dello scontro, l'altro scontro è che praticamente gli americani usano gli ucraini come carne da macello, perché notoriamente gli ucraini sono incapaci di decidere per se stessi, e notoriamente loro, come tutti gli altri esseri umani, vogliono vivere in povertà e più o meno schiavitù di fatto nei confronti dei russi, perché proprio servire i russi è una cosa da over the top, no? E detto fra parentesi, questa frase che può sembrare forte diventa molto più equilibrata, se vedete come vivono i russi da una parte, principalmente nelle grosse città, Mosche e San Pietroburgo, e come invece vivono le popolazioni che fanno comunque parte della federazione, ma che non sono esattamente russe. I ceceni vivono un pochino peggio dei russi, poi ci sono i taggichi, per esempio, che vivono molto peggio dei russi, e tutte le nazioni con lo stan. Cosa curiosa, gli stati con lo stan forniscono una marea di materie prime e risorse per la Russia, ma non riescono a crescere, perché la Russia assorbe tutte le ricchezze. Quindi il motivo per cui gli ucraini si rifiutano così caparbiamente di cedere a Zio Vlad è questo. E poi c'è anche la parte divertente, che sostanzialmente è quella che ripete Ursini ogni due per tre. In pratica Zio Vlad, in una parte di discorso che francamente non ho mai visto direttamente, ma viene riportata da fonti autorevoli, racconta che lui si sarebbe accontentato anche di una specie di corridoio per collegare la Russia alla Crimea. Sarebbe stato contento così, ma poi gli ucraini hanno attaccato, sono stati brutti, cattivi, puzzoni, e allora ha deciso di fare sul serio. Mentre faceva sul serio, per caso si sono tenuti i referendum, e dato che la stragrande maggioranza della popolazione delle regioni occupate ha deciso che la Russia era meglio dell'Ucraina, beh, lui, che è una persona palesemente totalmente democratica, ha detto, se la gente vuole stare con la Russia, conquistiamo anche tutto il resto. Cioè, Vladi non voleva, l'ha fatto per soddisfare la volontà popolare, perché, ripeto, lui è un vero democratico. E questa battuta sarebbe anche divertente se in mezzo non ci fossero centinaia di migliaia di morti. E voi a questo punto direte, sì, avvocato, l'hai detto probabilmente, se non migliaia, quantomeno centinaia di volte. Ma la parte interessante di tutto ciò potrebbe essere un'altra. Avete mai considerato l'ipotesi che il zio Vlad non stia facendo semplicemente propaganda, ma che questa visione naturalmente distorta del mondo sia il suo reale punto di vista? Insomma, Vladimir Putin potrebbe usare dei parametri di riferimento che sono completamente alieni per noi. Putin potrebbe realmente credere a buona parte delle cose che racconta. Non tanto sulla volontà popolare, ma sul fatto che, per esempio, l'Ucraina debba essere russa, perché anticamente era così, o perché forse è stato Stalin a creare l'Ucraina dal nulla e via discorrendo. Insomma, quello è realmente il punto di vista di Putin. È un punto di vista, quindi è ovviamente relativo, ma il concetto di fondo è che se Putin crede davvero a queste cose, così come noi non capiamo, non riusciamo a prendere sul serio lui, lui potrebbe non riuscire a prendere sul serio noi, o perlomeno gli ucraini. Il che, naturalmente, sarebbe un bel problema, o meglio, è un bel problema, perché Putin ha il potere assoluto, non c'è nessuno che può tirarlo per la giacchetta e dirgli che è l'ora di prendere le pillole, oppure che il mondo è profondamente cambiato da quando lui era ragazzino. E, ragazzi, prestiamo attenzione, perché se davvero cambiamo ottica, cessiamo di considerare le pretese di Putin come propaganda e argomenti per prenderci più o meno sperutivamente per il bipulo, ma passiamo per l'appunto a considerare queste che per noi sono delle grandissime bippate e la visione del mondo di Putin, tutto allora si spiega. Se Putin davvero è convinto che queste bippate siano la realtà, allora lui, chiaramente, non potrà mai arrendersi, perché lui sente che la grande madrepatria è sotto attacco, probabilmente non un attacco fisico, ma un attacco di qualche altro tipo, in grado di disgregarla. Vuoi che magari gli ucraini scoprono che è meglio l'Occidente e fanno così anche le popolazioni russe? È possibile. Vuoi che se gli ucraini resistono, altri stati il cui nome finisce con Stan fanno le valigie e abbandonano la federazione? Possibile anche questo. Fatto è che, secondo Putin, questa è realmente una guerra difensiva. Se per noi Putin può tranquillamente tornare nei confini del 1991 e restarci, per Putin non è così. Tornare nei confini del 91 significa che la Russia, così come la concepisce lui, cessa di esistere. Ed è per questo che tollera delle perdite molto alte e che continua a combattere quella guerra in quel territorio, anche se dovrebbe sapere perfettamente di non avere abbastanza risorse per ricostruire l'Ucraina una volta conquistata. Perché infatti Putin sta combattendo anche contro le sanzioni. E, vista l'insistenza con cui chiede la rimozione delle sanzioni, è lecito pensare, che funzionicchino realmente. E, naturalmente, questo potrebbe spiegare perché da due anni a questa parte non ci sono stati, e probabilmente nel prossimo futuro non ci saranno negoziati di pace. Molto banalmente, i due contendenti vedono il mondo in maniera completamente diversa. Quindi, un accordo non lo troveranno mai perché non si capiscono, non si accettano. Il punto è che però l'accordo si troverà soltanto a una condizione, quando una delle due parti sarà talmente logorata e avrà preso talmente tante mazzate sui denti che non potrà fare altro che sventolare bandiera bianca. O perlomeno cercare di trattare seriamente per salvare il salvabile. Al momento attuale, Zelensky è messo male, ma non così tanto, e Vladimir Vladimirovich Putin non ha ancora compreso il guaio in cui si è cacciato. Per cui, purtroppo, la guerra durerà ancora a lungo. Nei prossimi mesi, probabilmente fino alla fine dell'anno minimo, gli ucraini giocheranno in difesa perché è l'unica cosa che possono fare ed è anche la cosa che viene meglio perché si massimizzano le perdite dei russi. Ma oggettivamente non ci sono soluzioni pacifiche in vista perché molto banalmente nessuno è disposto ad accettare una resa e nessuno è disposto ad accettare una pace senza grandi guaragni territoriali. Forse qualcosa potrebbe cambiare se Putin fosse rimosso dallo scacchiere ma tecnicamente questa è una possibilità decisamente remota perché Vladimir Putin è popolarissimo fra i russi ma soprattutto anche la persona che potrebbe prendere il suo posto probabilmente ha la stessa visione del mondo di Putin perché negli ultimi anni almeno 10 o 15 Putin non ha fatto altro che condizionare il suo popolo a credere quello a cui crede lui e che cioè la Russia sia ancora grande una superpotenza distrugge di qua e polverizza di là e via discorrendo. Per cui anche sostituendo Putin verosimilmente ti troveresti di fronte a un altro nazionalista russo convinto di poter fare l'impossibile per salvare la sua grande macchina. In pratica, a mio modesto parere l'unica soluzione per uscire da questo conflitto è dare tante, ma tante, 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 tante mazzate sul coppino di Putin. Quando questi resterà senza risorse capirà che deve rinunciare alla conquista dell'Ucraina e giocarsi la sua battaglia per la sopravvivenza in altro modo. La cosa divertente il vero paradosso consiste nel fatto che più spreca risorse in Ucraina meno è in grado di controllare il resto della sua federazione. Ma probabilmente nessuno gliel'ha ancora spiegato. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi volete sostenere il canale sono stati attivati anche gli abbonamenti. Se non vi vanno bene gli abbonamenti c'è sempre Patreon e se non va bene neanche Patreon beh, almeno iscrivetevi questo è gratis e aiuta il canale. Poi se volete condividere i link al video sulle piattaforme social farete un grande favore al canale. Stessa cosa mettendo i mi piace. E attivate anche la campanella tanto non suona mai però sarete informati ogni tanto sui nuovi video. Inoltre, se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente lontano potreste ritrovarvi Putin che vuole combattere per la vostra salvezza a tutti i costi facendovi entrare nella federazione russa con tutto il giardino del vostro palazzo. Io vi ho avvisati poi fate voi. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto.